Ok ottimo la deluxo, prendiamo la deluxo E andiamo, cerchiamo di arrivare prima degli altri così insomma vediamo cosa possiamo fare perché non mi era mai capitata una di queste Ok vedete no il tizio ha preso l'avenger io pensavo di fare prima di lui ma proviamo a sparargli dei razzi può essere che capisce che non mi deve superare Vediamo un po' perché poi onestamente non so se si possono distruggere le scorte o devo distruggergli il veicolo perché non so se si può neanche distruggere l'avenger Non lo so perché non l'ho mai fatta sta cosa Boh vediamo Ok forse ha capito che deve girare Si ok si sta girando ottimo quindi vuol dire che ha capito che deve andare via ottimo Adesso non so dove va forse va a prendere l'altro tizio che sono rimasto indietro noi intanto arriviamo lì e vediamo cosa c'è da fare Ok ottimo questo qua è il laboratorio scendiamo Oddio c'è anche la porta da sbloccare Ok porta sbloccata sto uccidendo un po' di gente per vedere dove si trovano queste scorte così le distruggiamo oppure conviene forse farsi uccidere e distruggere l'avenger mettere delle bombe sull'avenger Ora vediamo Vabbè tanto è infatti come non detto mi hanno ucciso Ok intanto sti qua sono arrivati quindi io direi di metterci delle bombe su sto avenger vediamo un po' se esplode ovviamente quando si salgono loro perché credo che le scorte si distruggano ogni volta che qualcuno muore Comunque calcolate che c'ha 4 scorte siamo in 3 quindi ne ha già persa 1 in partenza Ok Allora vediamo un po' stanno salendo adesso facciamolo esplodere Ottimo ok no non è esploso come è possibile Non so perché non è saltato in aria ma può esplodere sto cosa No vedete non esplode non so perché o è mega resistente oppure non esplode Perché non esplode vabbè comunque diamogli fastidio però ancora non se ne sono accorti che magari sto cercando di boicottare tutto quanto però vabbè meglio così Vediamo un po' ok no non bu niente Sta missione comunque è bella lunga Ok niente io li sto sparando non esplode però mi sa che non sa guidare questo qua infatti sta facendo un bel po' di casino Sì infatti mi sa che gli è cascato un'ala non so come abbia fatto però Infatti che cavolo sta facendo Tipo esplosa un'ala Oh vabbè io li continuo a sparare i missili ma credo sia abbastanza inutile quindi conviene Cercare di farli salire in macchina non lo so e buttarci in mare da qualche parte Perché mi sa che queste scorte non si possono distruggere a meno che non li distrugga qualcun altro Per questi recuperi credo dal bunker Quindi per quello evitiamo di fare la prossima volta recuperi dal bunker Ok ottimo sono morto quindi credo che una scorta è andata già Perché ne avevo presa una Ok allora vedete ha chiamato l'avenger a proposito Ovviamente sono andato a prenderlo E adesso il tizio una l'ha consegnata perché sta andando a consegnarla e non lo posso fermare E un'altra la perderà un'altra è rimasta nel laboratorio quindi l'ha persa quindi rimane Questa scorta diciamo che abbiamo fatto un bel danno Adesso vediamo di andare in mare ragazzi Quindi così è l'unico modo per ucciderlo Perfetto esattamente qui perché lui pensa che io stessi consegnando le scorte invece mi vado a buttare In mare così si attacca Ok perfetto impicchiata sul mare Ottimo vediamo che fa Se era attivo oppure no Lo spero vivamente No mi si 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 è uscito ok No si è buggato tutto è diventato tutto nero Ok vediamo che fa Comunque Ok ragazzi io mi sono suicidato Lui è rimasto lì come un pirla Vedete sta lì giù Praticamente in culo quindi non credo arriverà mai Credo faccia prima uccidersi A posto quindi una scorta è andata Vedete due scorte distrutte Ok addirittura hanno abbandonato la sessione sti qua Quindi ottimo rage quit Ok è arrivata una nuova richiesta Accettiamola A posto allora vediamo un po' Questi qua stanno facendo il recupero No la consegna qui giù Quindi andiamo subito Eccolo qua Lui magari ancora non si aspetta cosa gli succederà Credo si possa distruggere tranquillamente Che ha il camion Si si allora si può distruggere tranquillamente Quindi vediamo di non morire Ok a posto quindi io direi di cominciare a sparare Magari lo prendiamo senza morire Ok 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 Aia madonna stavo morendo Ok Ok è morto Ottimo adesso mi odierà Però l'ultimo colpo dovrebbe esplodere Ottimo Olè Morto Mortissimo Però lui non mi può sparare Guarda 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 che faccia Non se lo aspettava che non mi può sparare Guarda che faccia Guarda mi continua a sparare non ha capito che mi deve cacciare Allora qui intanto mi ha cacciato quell'altro Entriamo in salto all'organizzazione che mi ha invitato Allora C'è sto tizio Eccolo qua C'è il tizio di prima che mi continua a inseguire Mi vuole uccidere in qualche modo Ti vuole vendicare Gli avrò fatto perdere migliaia di dollari Quindi uccidiamo pure questi Allora Atterriamo Intanto sento il razzo Mio dio mi sta a sparare questo Do sta Oddio Per poco non mi piava Vabbè tanto non mi ha preso Oramai Pensiamo uccide questi Vediamo un po' se ce la facciamo Sì un altro paio di razzi Ok mamma mia Addirittura si è ribaltato Olè E sono morti pure questi Addirittura rage quittano tutte e due Quindi pensate un po' come stanno messi Qui ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Se siete nuovi ovviamente iscrivetevi al canale E date consigli per la serie E noi ci vediamo al prossimo video